Siamo in piazza Stuparic davanti al cantiere che sta realizzando il nuovo Palalido, l'impianto che da fine settembre, inizio di ottobre dovrebbe ospitare gli sport da palestra praticamente, non soltanto il basket come previsto dal contratto firmato dal Comune con l'Armani Milano, ma anche la nuova squadra di pallavolo che potrebbe disputare nella prossima stagione la Serie A1. Il cantiere è in pieno movimento, tra oggi e lunedì dovrebbero arrivare gli oltre 1500 pezzi realizzati dalla Isocel di Pognano di Lombardia, la ditta che realizza prefabbricati che poi vengono montati in loco. Sono previsti oltre 100 viaggi con i camion, 23 dei quali tra l'altro trasporti eccezionali, quindi trasporti che verranno scortati perché portano pezzi lunghi oltre 14 metri di peso di diverse tonnellate. I lavori dovrebbero durare altri due mesi. Per quanto riguarda la parte in muratura, diciamo lo scheletro e la copertura, dopodiché si partirà con un altro mese per realizzare gli impianti, le rifiniture e la fase dei collaudi. La tempistica prevede una consegna tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, quindi in tempo per la partenza delle stagioni sia del basket che della pallavolo. Questo naturalmente augurandosi che non si ripetano i contrattempi che hanno portato a ritardi addirittura di anni, perché ricordiamo che il Palalido doveva essere pronto inizialmente addirittura nel 2012. Un progetto partito con la precedente giunta, addirittura Moratti, nel 2007. La tempistica, se non ci saranno altri problemi, viene garantito che sarà rispettata. Noi staremo qui a verificare che sia così.